Questa ragazza è una regata al campevalone liberato che finalmente dopo tanti anni è tornato! Cose che ha patito, quante banalità, in cui ho dovuto sopportare e sopportare, però non te lo rifaccio perché in fondo non si fa, e quindi lascio. Io lascio ma ci penso al tempo che è passato e in fondo poi io l'ho spregato, lasci mi andare per minimo ma non lo posso far, perché non stai più qua. Sei andata via da me, non vale, o che sei andata non devi più tornare, tu sei come il palettone a Natale che si c'è, va bene, lo manchi e se non c'è, sto bene o quale. Se ci volete tanto spicci per tu birra siamo felici raga. In caso di comparazione tra donne e da manià, tu saresti un palettone ma uno di quelli là, che compri pensando che sia cioccolato, ma quando lo scarti rimani pregato. Perché c'è l'uventa e ti senti tradito da una società che vende pazzi da al supermercato. Sei andata via da me, non vale, o che sei andata non devi più tornare, tu sei come il palettone a Natale che si c'è, va bene, lo manchi e se non c'è, sto bene o quale. Sei andata via da me, non vale, o che sei andata non devi più tornare, tu sei come il palettone a Natale che si pure me lo danno. Col cazzo che me lo magno, non me lo magno, non me lo magno, e non so manco che c'è la riagnò. Ehi, grazie, chi vuole sul paletto? Grazie! Stiamo sul palco, state in mezzo ai suoi. Trovate sul primo palco, viva il Cardevalone liberato!